Sono arrivato adesso a casa dopo una giornata di pioggia e mi sono dimenticato i cani fuori. Mary, com'è andata questa giornata di pioggia? Non si vede bene che sei così bagnata, invece sei franza. Guarda che schifo! Liz è proprio brutta bagnata. Ci asciughiamo? Ti vuoi asciugare, guarda quanto sei brutta. No! Liz, no! Ferma! Allora, cuccia numero uno, vai su. Liz, no! Liz, non devi giocare con questo, devi toglierti o metterlo nella cuccia. Che mi fai capire! Liz fa la lotta con l'asciugamano e io intanto l'asciugherò. Guarda te, ci sono due cucce, tutte e due devono andare nella stessa. E bacucchiamole, vai! Oh, questi due musini belli, belli! Mary, vieni che ti asciuga, dai. Ma Liz, fatti gli affari tuoi. Non muori da nessagliarmi Mary, Liz. Istinto protettivo di asciugare sua figlia quando si bagna. Liz, lascia stare Mary. Stai seduta. Stai seduta e ferma lì. Prende l'asciugatura come un gioco. Voglio vedere se accende un bel phon. Se lo prendi come un gioco. Vuoi andare a fare il bagnetto? Non vuoi andare a fare il bagnetto, vero? Liz, ma Liz! Ma comincia una guerra. Iscriviti al canale! Ti è venuto più nervoso? No, ti è venuto più nervoso. Ma sì, ti è venuto più nervoso. Io ti incappuccio tutta. I vostri cani fanno questo? Ecco, si monta. Sono uscito in famiglia e io non metto becco, eh. Guarda che stasera dovete dormire insieme due in due. Liz, ferma lì sulla cuccia. Se stai ferma lì ti do un biscotto. Ok? Ferma lì, eh. I vostri padroni fanno questo? Adesso ti asciugo e poi ti do il biscotto. Va bene? Mettete like, per favore! Ok. Seduta nella tua cuccia. Ferma, seduta. Ferma lì. Adesso voi per previ riceverete un biscotto. Però dovete stare ferme lì, eh. 3, 2, 1... Brava! E biscottino per Liz. Bene!